Questo video riguarda i migliori tre pentole per pasta. Il vincitore della qualità è il Rose L'Elegance Pentola per la Pasta. Rose L'Elegance Pentola per la Pasta e Asparaghiera. La pentola in acciaio inox di alta qualità con capacità di 5 litri è ideale per la preparazione di pasta e verdure, per tutti gli amanti della pasta italiana e degli asparagi. Per la preparazione si possono inserire la pasta o le verdure direttamente nello scolapasta estraibile. Il cestello a maglie fini permette di scolare rapidamente. Con manici ergonomici in acciaio inox per una comoda maneggevolezza, il pratico bordo a versare arrotondato serve per versare senza gocciolare. Il fondo incapsulato con anima in alluminio distribuisce il calore in modo rapido e uniforme e lo mantiene per un lungo periodo di tempo. Adatta a tutti i tipi di piani cottura, ceramica, elettrico, a gas, a induzione e forno, realizzata in acciaio inox di alta qualità, la pentola si può facilmente lavare a mano o nella lavastoviglie. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Pensofal Pentole per pasta. Selezione di articoli in più misure, arricchita da una serie di articoli speciali. Composta da un corpo ad alto spessore in alluminio riciclato con rivestimento antiaderente biostone a quattro strati effetto pietra, rinforzato con minerali naturali duri, ultra resistente a graffi ed abrasioni, la linea biostone garantisce massima antiaderenza senza aggiunta alcune di oli e grassi. Parola d'ordine, praticità. Il rivestimento esterno antiaderente è inalterabile e facile da pulire. Totalmente green. Entrambi i rivestimenti sono completamente a base d'acqua, privi di PFOA, FAS, BPA, solventi e metalli pesanti. La sostenibilità ambientale è la nostra più grande sfida. Per questo tutti gli articoli Pensofal sono prodotti interamente in alluminio riciclato, che abbatte i costi energetici del 95% rispetto alla sua produzione ex novo, limitando notevolmente le emissioni di CO2 nell'ambiente. Il vincitore del premio è la Aeternum Divina. Stile e praticità senza tempo. In Divina c'è proprio tutto quello che serve per avere una cucina ben attrezzata, funzionale e in grado di realizzare ogni ricetta con fantasia. Finiture e design accattivanti, per cucinare in modo sano e con stile. Affidabile in ogni particolare tecnico, ha un fondo ad alto spessore a tre strati, da alluminio-acciaio-alluminio, adatto anche all'induzione, che consente di ottenere una perfetta diffusione del calore e conservare a lungo la temperatura. Così anche le ricette più semplici acquistano un gusto unico. Divina ha uno stile nato per durare. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.